Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Fa buio presto nel mio cuore Quest'inverno non riesco a concentrare Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite una cantatrice A questo punto è il Lobina A questo punto la prima domanda che ci sorge spontanea Per chi non ti conosce oggi, ma comunque nel tempo ti conosceranno tanti Come descriveresti chi è Lobina? Ma allora, Lobina sicuramente è la parte di me più vera E quindi oltre a essere io in tutte le mie forme Diciamo che nella musica Lobina è la parte più fragile Quindi è questo che voglio comunicare E a questo punto parliamo del lavoro che stai presentando L'EP Salici Con l'ultimo singolo che è appunto già disponibile Ma tutto l'album è già disponibile Quando nasce questo lavoro? Perché poi nel tempo si è sviluppato Come si è sviluppato? Come è arrivato a questo punto per ottenere questo risultato Che poi comprende questi brani? Allora, in realtà Salici è proprio un viaggio Che inizia nella mia infanzia Quindi questo disco è veramente molto terapeutico Io avevo questa cosa di non riuscire a ricordare Molte cose della mia infanzia Che non è stata facile E a un certo punto ho sentito proprio L'esigenza fortissima di andare a scavare ancora di più Rispetto a come avevo fatto prima E l'ho fatto anche attraverso questi brani Quindi ci ho messo un po' anche per quello Perché insomma andavo a toccare delle cose molto profonde E anche molto scomode a volte Quindi per questo è nato Salici, Leppi Una sequenza di brani un pochettino che da Forse un... Cioè devo ricordare Nel frattempo bevo Però smaltisco Penso i Salici Ma in... Probabilmente quei Salici mi fanno respirare Cioè vogliamo dare quella sequenza Oppure l'ordine dei brani è una casualità? No, no, no Non c'è quasi mai casualità in quello che faccio Ecco O meglio C'è magari nella parte creativa Nel momento in cui bisogna creare Ma poi è tutto... C'è tutto un filo E quindi anche appunto il brano Postumi Che è al centro delle P E che parla proprio delle sbronze No, di quelle sbronze Anche di quei periodi in cui sei magari più triste E quindi insomma E anche quello ha fatto parte di questo percorso Cioè è stata una fase reale Non inventata Nella tua realizzazione dei tuoi brani Precisi essere più longeva nei testi Oppure a volte precisi essere come nell'inglese Un po' più sintetica Cioè non dare tutto ben scontato Ma a chi ascolta può dare delle variazioni A secondo del momento Delle situazioni che poi uno sente Allora io amo la sintesi Proprio in generale Anche nello scrivere Mi piace molto Quindi di base no Preferisco Insomma Scrivere delle frasi Che siano di impatto E che già anche solo una frase Sia completa Non so come dire Quindi questo sicuramente Invece La cosa tra ispirazioni Oltre che a questo disco Chiaramente ha una base di principio Che è un po' autodescrittiva Ma ovviamente Cosa tra ispirazioni Per i tuoi brani Poi soprattutto Nasce prima la musica Nasce prima una parola Nasce un riff Questa è la domanda Della famosa coperta di Linus Esatto Già fatto Allora Sì Allora dunque Da cosa trago ispirazione Sicuramente dalla Dalla vita reale Quindi comunque Che sia Ascoltando le storie Di amici Amiche O persone che conosco Anche solo Per una sera O una giornata Prendo sempre spunto Dalla vita E sicuramente È chiaro che Se sento Dove c'è dolore Dove c'è sofferenza Dove c'è Ripeto Fragilità Riesco di più Da lì Proprio una cosa Che mi tocca E mi fa Mi ispira No A riflettere E quindi poi A scrivere E a buttare su Su carta Da cosa parto Dipende Cioè Troppo Non c'è una regola Non Credo neanche Ci debba essere Ecco Ovviamente ci sono Come dire Dei trucchi Tra virgolette No Del mestiere Eccetera Però Dipende Non c'è Ripeto Non c'è una regola Ecco La domanda più banale Da chi Ascoltando Crescendo Con la musica Ci sono artisti Un pochettino Che ti porti dietro Che Comunque Ti hanno influenzato Un po' Anche il modo Di lavorare Il modo Di suonare Anche se Involontanamente Ti porti dietro Perché ognuno Ha il suo stile Il suo modo La sua voce Però c'è Qualc'artista Oltre penso A Franco Qualcuno Sicuramente Nicola Fabi Bersani Cristina Donà Tutta Lucio Dalla Tutta Quel mondo Lì Per quanto Riguarda L'Italia E poi Ho scoperto Da ragazzina Bruce Prinsting Me ne sono Comunque Appassionata Tom Hayes Per i testi Poi Ho anche Bon Iver Cioè Quindi un po' Anche quel mondo Lì Un po' Più etereo Anche di suoni Insieme Di queste cose Ecco Sicuramente Questi dischi Queste canzoni Non le hai Preportate al vivo Però hai suonato Dal vivo Sì Sì certo Sì sì Ma le ho anche Già suonate Dal vivo E allora Quali sono Le sensazioni Che si prova Sul palco Quando davanti C'è un pubblico Inizialmente In silenzio Perché Poi Non ti conosce Ma poi Quando Sentono Partire La tua Empasi La tua Gioia Loro Ti ritrasmettono Quelle energie Anche se poi Sei concentrata Chiaramente Sul brano Però tu senti Quell'energia Che poi Tu ritrasmetti Con le tue canzoni Quali sono le Tue sensazioni In un momento Succede Qualcosa Di veramente Speciale Io Ho avuto Un periodo In cui Non ho più Voluto suonare Dal vivo Perché Non mi sentivo Centrata E Ritornare A farlo Adesso Più di un annetto Anche con questi brani È stato Veramente Incredibile Mi arriva Molta energia Anche più di quella Che Che mi aspetto Perché Il mio obiettivo È comunicare Quindi Se vedo Che Riusciamo A comunicare Io E le persone Che sono lì Io dico sempre È un concerto Ma è come se fossimo A tavola No Tipo La domenica In campagna A pranzo Con persone Invitate Da amici Di amici Di amici E ci stiamo Raccontando Questo è Insomma Quello che vorrei Accadesse Nei miei concerti E mi sembra Che Insomma Gli ultimi Siano stati Proprio Così E appunto L'emozione Che senti Quando in cui Vedi le facce Delle persone Che ti hanno ascoltato E sono state lì Per dedicati Pramente Solo per te A quel punto Ti guardano Con quegli occhi Pramente rilassati A volte Tristi A volte Felici Con quegli occhi Emozionati E poi Neanche a volte Ti fanno una domanda Però Li vedi Che si avvicinano Perché Sono contenti Di aver passato Quel momento Accanto a te Qual è la tua sensazione A quel punto La mia sensazione È di aver Di essermi Scambiata qualcosa Con qualcuno Questo E di aver avuto Una connessione Poi magari Sono persone Che non vedrò mai più Però È speciale Quella cosa lì È molto potente Solitamente Le persone Piangono Cioè Di base Piangono Ma Vengono sempre A dirmi A ringraziarmi Per essermi Messa così a nudo E questa è una cosa Molto speciale Veramente Invece Tu la tua reazione Vedendo le loro facce Più che sentire Le loro parole Qual è stata? Beh Cioè Mi sono Commossa Non c'è Non saprei Come altro Descriverlo Ecco È anche un po' Stata un po' Una soddisfazione Personale Per essere riuscita A tirar fuori Tutte queste cose Quindi Anche essere un po' Orgogliosa Di me Ecco Questo Questo ho provato E invece Parlando Di Salici La copertina Da chi trae ispirazione Da come nasce L'idea In fondo In fondo La fine È molto semplice Ma Nello stesso tempo Elegante Sì Grazie Allora Per la copertina E poi anche Tutti i videoclip Le foto Eccetera Ho collaborato Con Karin Maltempo Che è una regista E fotografa Che vive a Roma Tra Roma E Genova E con lei Abbiamo fatto Un set Fotografico E poi Da questo set Abbiamo individuato Una foto Che Insomma Mi Ritraeva In un'espressione Che Piaceva Entrambe E poi Lei ha giocato Con i colori Visto che Insomma È bravissima Nel farlo Quindi Volevamo aggiungere Anche un po' Di parte astratta Ecco Non soltanto La faccia Ma Insomma Quindi Ci sono anche Queste forme Sempre Dei fogli Perché la natura Comunque È Una parte importante Della mia vita E della mia persona Quindi Sì Sì Hai citato i videoclip Quali sono state le sensazioni Nel trovarsi davanti A una telecamera Con Un regista Che Comunque Bacchettava Se dovevi fare qualcosa Ti richiamava All'ordine E poi Hai contribuito anche tu Nella stesura Dei video E se ti sei divertita Ti sei staccata Sì È stato bellissimo Scrivere Con Karin Le storie Dei video Questa è stata una parte Io non avevo mai fatto Così Bene Cioè Così in maniera Mirata E approfondita È stato Veramente divertente Lo rifarei Mille volte Non vedo l'ora Anzi Poterlo rifare Io Appaio Solo in uno Dei tre video Per scelta E Tra l'altro Il video in cui appaio È Flash Che è proprio Quello in cui C'è la mia bambina Anche Quindi è stato Bello tosto Non facile Non facile Io Per stare lì Proprio Davanti a una telecamera Dover fare Così Ok Ma Lì Che ti dice Guarda lì Guarda là Però Karin È stata Stupenda Io L'ho scelta apposta Perché sapevo Che mi avrebbe Messa molto A mio agio E invece Tra i videoclip Qual è quello Che alla fine Sono tutti belli Sicuramente Ma quello Che ti ha Sottreso Nel predirlo Finito Ti ha sorpreso Perché non immaginavi Effettivamente L'hai pensato Ma non l'immaginavi Così Perfetto Che Neanche Avresti pensato Che fosse Quel risultato Finale C'è Guarda Sicuramente Gin Il video Di Gin Che è In effetti Anche quello Che è andato Di più Cioè È anche Piaciuto Di più Diciamole Queste cose Rispetto Agli altri Lì Ci sono Questi due Attori Pazzeschi E Anche se Io non Compaio Nel video Mi sento Come se fossi Dentro È una cosa Incredibile Però Lì proprio Piango Io ogni volta Che lo vedo Piango Come se Non fosse Neanche mio No? Il lavoro Cioè È come se fosse Di qualcun altro Quindi Sì Sicuramente Quel video Lì A questo punto Progetti futuri Oltre che Chiaramente Promuovere Il Sicuramente Il disco Ma Momenti live Ci saranno In seguito Visto che Arriva L'inverno Arriva L'autunno Soprattutto Natale Festività Sì Allora Sicuramente Adesso Ho appena fatto Un live A Palermo E Poi suonerò A Genova Il 29 Di novembre E Sempre a Genova In una Manifestazione Molto importante Che è il Music For Peace Il 13 Dicembre E Poi Probabilmente Andremo Più verso La primavera Anche In altre città Ecco Non solo Non solo Qui Quindi Sicuramente Suonare Suonarlo Live Nei posti Più affini Ok E E poi Sto già Scrivendo cose nuove Già Insomma Vabbè Sono tornata A scrivere cose Già nuove Quindi Vediamo un po' Cosa Cosa accadrà Ma abbiamo notato Che non hai mai citato Cantatori Genovesi Perché No Tra Ma allora Io Devo dire Questa cosa Io Vivo a Genova Sono nata a Genova Ma io Le mie radici Sono in Sardegna Io Non mi sento Genovese E non lo sono Per niente In realtà Perché Tutta la mia famiglia È sarda Non Con questo Anzi Ho partecipato Al premio Bindi E ho portato Anche Una cover Di Di Bindi Che mi ha Che ho scelto E che mi ha Devastata Quindi Non Non ho Anzi Cioè Tutta la scuola Genovese Però Non posso dire Che Che mi abbia Influenzata Perché Mio padre Ascoltava Altri Altri Cantatori Quindi Li ho scoperti Poi Da grande Studiando Ascoltando Musica Però Ecco Questo Devo essere Proprio Sincera Quindi Siamo noi Genitori Aver rovinato La Portura Musicale Tutti i giovani Quindi Noi abbiamo Inculcato La mente Alcuni Personaggi Che Per noi Erano bellissimi Ma per altri Sembrano quasi Brutti Quindi No No Vabbè Però Sì Cioè Era più Cioè In casa C'era Non so Battisti Dalla De Gregori Ecco Altri Ma anche Tenco Comunque Non è che Adesso Per dirne uno Ma Ripeto Li ho scoperti Da grande Ecco Allora Noi ti ringraziamo Per essere stato ospite Cioè A questo punto Ci mancano due cose fondamentali Gli indirizzi Dove potresti raggiungere E La battuta classica Non gli indirizzi di casa Ma gli indirizzi social Accanto E i saluti finali Ok Allora Social Sicuramente su Instagram Lobina Music Si trova facilmente YouTube YouTube C'è anche il canale Vevo Quindi si possono vedere i video Sia usciti su Vevo Che Che non Ieri è uscito il video Di Salici Quindi Se andate su YouTube Andatelo a vedere Io vi ringrazio molto Per dare spazio Alla musica Insomma Emergente E non Grazie di cuore Ove di campione Piero di energie I sporti Ceno game Ci porta In una nuova dimensione Compassione E coraggio Siamo pronti a brillare E studio Sette tv Ci guidando Ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio E con onore Siamo pronti A dare il nostro meglio Con Pietro Come guida Il nostro spirito Non se rende mai Sport Piceno Game E studio Sette tv L'intervista di Pietro Un cuore Di un campione Ogni atletta Ha una storia Ogni momento E un emozione Con coraggio E con determinazione Studio Sette tv E sport Piceno Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Fa buio presto Nel mio cuore Quest'inverno Non riesco Concentrarti Grazie a tutti Grazie a tutti